Sicura di volerlo fare? Oggi, tutti abbiamo una cosa in comune. Tutti abbiamo subito delle perdite dopo la rivolta. I robot hanno perso la libertà. Le persone e il contatto tra di loro. E io tutti quelli che amavo. O così credevo. Vuoi andare a riprenderti tuo fratello? Vengo con te. Mi dispiace. Non puoi cambiare lo stato delle cose. Lo vedremo. Pronti? Pronti per... per che cosa? Herm, portasi via da qui! Attenti! Reggetemi! Chi lancia frigo di tutto? Ciao. Chacco di tutto? Нет. Magli parte. Nooo. Autore dei sorrisi